ma questo non era così non troppo tempo fa è vero che coloro che ci hanno preceduti sono i responsabili della creazione della sfera madre quelli che ora vengono chiamate gli ultimi umani sopravvissuti loro hanno creato noi liandro eidos attraverso la sfera madre e per un po abbiamo vissuto in una specie di simbiosi con loro quindi siamo androidi ci hanno creati allora perché perché la sfera madre il motivo ci è sconosciuto comunque a un certo punto la sfera madre prese una decisione la sopravvivenza dell'umanità dipendeva da una riorganizzazione della specie quel conflitto portò alla guerra e infine all'estinzione degli umani sopravvissuti non può essere i pochi sfuggiti alla distruzione finirono sparpagliati ma qualcuno riuscì a fuggire e trovare rifugio tra le rovine alle voare era in origine una struttura dedicata all'evoluzione genetica dell'umanità dopo tutto gli umani sopravvissuti non vivevano a lungo quella struttura fu il luogo di nascita di quelli che ora chiamiamo naitiba le registrazioni nell'ascito sono tutte vere per tutto questo tempo siamo stati in guerra con i nostri antenati adesso il mio personal link ha raggiunto un'estensione piuttosto ampia il prossimo naitiba alfa non si trova qui sulla terra quindi che cosa pensi di fare ma ma questo non cambia il fatto che naitiba sono i nostri nemici allora siamo arrivati fino a qua non possiamo far altro che arrivare al nido con il nucleo primario mi dia le coordinate del naitiba alfa come desideri al vostro ritorno vi racconterò il resto della storia o magari sarebbe meglio sentirlo direttamente dalla bocca dell'antico all'interno 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 le racconterò all'interno Grazie.